L'ultimo blef di Domenico Serafino, l'ultima partita della Sambda squadra non fallita. Potrebbe arrivare la settimana prossima il verdetto sul club rosso-blu, non a brevissimo dunque. Maxi Lopez e compagni giocherebbero la partita conclusiva della stagione regolare, domenica alle 15 a Padova, con la società ancora in agonia. È l'indiscrezione che emerge dopo l'udienza di comparizione, svolta da remoto. Da una parte il giudice fallimentare del Tribunale di Ascoli, Francesca Calagna, collegata da Roma, dall'altra nel milanese il presidente rosso-blu Serafino, ancora in quarantena. E poi i commissari giudiziali Massimiliano Pulcini e Franco Zazzetta, i legali delle otto ditte che hanno presentato istanza di fallimento, e l'avvocato di Serafino, il teatino Luigi Acconcia, che però ha subito rimesso il proprio mandato. Ebbene, la Calagna, in chiusura di seduta durata meno di un'ora, a precisa domanda di Serafino ha prospettato una decisione dopo la Camera di Consiglio, composta anche dagli altri magistrati Luigi Cirillo e Francesca Sirianni, non prima di lunedì. Di sicuro Serafino ha provato a giustificare il mancato deposito dei 25.000 euro a garanzia del concordato con il coronavirus. E poi ha parlato di sponsor per 350.000 euro, giocatori da vendere, ovvero Botta, Lescano, Angiulli ed Enrici, ma i primi due avrebbero già chiesto lo svincolo. Oltre ad accordi con un paio di ditte creditrici, è un'improbabile richiesta di accesso al fondo Covid. Parole contestate dagli ufficiali giudiziali, che dopo la durissima relazione presentata lunedì scorso, hanno ribadito come Serafino non possa ormai più gestire una società che costa 350.000 euro al mese. Adesso sta ai giudici del Tribunale di Ascoli, in attesa la città e i tifosi che anche stavolta si preparano a pagare la trasferta di Padova alla squadra, ma i giudici stanno per staccare la spina alla Samb di Domenico Serafino.